Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, sono Quarzo e oggi facciamo un velocissimo video di reazione al nuovo teaser che è uscito sul nuovo campione di League of Legends che si chiama Kiana molto difficile da pronunciare andiamo direttamente al video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche likeate, condividete e andiamo a vedere questo trailer pronti? via ho reso rigogliose le giungle dato forma alle terre e dato un letto a tutti i fiumi interessante questo mondo risponde a me allora è molto interessante perché lei dice parla di terra erba diciamo vegetazione e acqua quindi potrebbe essere no, sicuramente avrà delle abilità collegate a questi elementi magari la Q la W e la E saranno le sue tre abilità base e ognuna di queste abilità magari avrà a che fare con la terra con l'acqua e con la vegetazione potrebbe essere una cosa del genere e in caso sarebbe una cosa davvero davvero figa fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e secondo me anche la l'animazione insomma la splash art è fichissima è davvero bella e anche se devo dire che la terra sembra un po' più fuoco che altro ma va bene fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate vi ricordo un'altra volta di iscrivervi al canale sarà un video davvero davvero breve perché effettivamente c'è poco da dire a parte ipotizzare che le sue abilità siano in qualche modo collegate a questo ah un'altra cosa secondo me visto l'ambiente in cui lei sta potrebbe essere un jungler visto che è in mezzo alla vegetazione potrebbe starci che sia un jungler e la Riot ha già annunciato che è un assassino AD quindi insomma potrebbe davvero essere un assassino AD nella giungla con tre abilità che si riferiscono a tre elementi grazie per aver guardato il video molto molto veloce e iscrivetevi condividetelo mettete like spero che vi piaccia ci vediamo nel prossimo video